Per valorizzare il nostro territorio, le nostre imprese e i loro prodotti è stato creato il marchio QM, qualità garantita delle marche. Con questo marchio si intende valorizzare i prodotti che corrispondono a disciplinari specifici e garantiti da autorità indipendenti. Oggi lo rilanciamo grazie ad una nuova campagna di comunicazione che ne esalterà i valori ma soprattutto rappresenterà l'unicità di questa straordinaria terra, le marche. La tracciabilità completa, la biodiversità, l'utilizzo corretto delle risorse a nostra disposizione, la trasparenza verso i consumatori. Sono questi i valori fondanti dei prodotti a marchio QM che noi vogliamo esaltare e rilanciare in questa campagna di comunicazione. L'agroalimentare è una ricchezza fondamentale nelle marche perché ci identifica e ci lega all'alta qualità della vita. L'investimento che stiamo facendo sulla valorizzazione delle filiere e sui prodotti racconta chi siamo, identifica i valori ma soprattutto ci rende garanti della salute e di un'alimentazione sana che mira a garantire la qualità ma anche la salute. La campagna QM è un invito a scoprire e a scegliere un futuro ad alta qualità, moderno, efficiente e sostenibile perché vogliamo costruire un futuro buono e vogliamo farlo insieme. Siamo le marche, diamo valore alla qualità. Dentro quello che mangi c'è più di ciò che mangi. Nei prodotti QM, qualità garantita dalle marche, c'è il legame col territorio, la tracciabilità delle materie prime, l'attenzione alla biodiversità e sostenibilità e i controlli di filiera. QM, qualità garantita dalla regione Marche, diamo valore alla qualità.